Allora, Iriam è un'azienda torinese che ha sede adesso all'Iverum Man Park. Il vostro rapporto con il luogo, con Iverum Man Park? Ma noi qua ci stiamo molto bene, stiamo molto bene perché in mezzo al verde ci sono tanti servizi che il centro fornisce. C'è la possibilità per le persone che lavorano qua di raggiungere facilmente il posto, non dimenticandosi i parcheggi che sono molto importanti, i parcheggi sostenitoriali sono molto utili. Però il posto è bello, diciamo, nel verde, noi abbiamo palestra, abbiamo ping pong, calcetto, abbiamo le docce, quindi magari nell'interno si va a correre qua nel parco, c'è proprio un clima bello. Oltre il fatto che c'è proprio un po' la sensazione del campus perché ci sono queste strutture di sala conferenze, c'è tante imprese, ci sono dei punti di ritrovo, le persone chiacchiano, sta bene nel verde, nel parco, è un bel posto deve stare. Ecco, come azienda voi siete in crescita nell'ultimo anno, le prospettive per il 2018? Noi siamo in crescita forte, sostenuta, negli ultimi anni siamo cresciuti del 20-25% anno su anno e anche nel 2018 pensiamo di crescere almeno altrettanto, quindi un altro 20%. Il 2017 è stato un anno importante perché abbiamo preso dei clienti nuovi, importanti clienti nuovi e questo significa che consolideremo sicuramente con questi clienti il rapporto nel corso del 2018, quindi già adesso stiamo selezionando delle persone da inserire, stiamo facendo dei lavori con l'università per dei master, quindi per formare delle persone, fare tesi, stage qui da noi, quindi tante cose che ci permetteranno di individuare persone qualificate, di provenienza tecnico-scientifica e economica da inserire in azienda, quindi è una crescita sia in termini di volumi sia in termini di risorse e la formazione delle persone è sicuramente importante. Va bene, grazie. Grazie a tutti.